E rieccoci, allora avete sentito quante liti su sta roba degli italiani, degli immigrati, però io adesso mi avvicino qui perché faccio quella parte di trasmissione in cui non si litiga ma si chiacchiera, invito dei personaggi conosciuti e con loro parlo, però con un titolo del genere, sono Rozza e me ne vanto, vabbè saluto Carmela Rozza del Partito Democratico, buonasera, ciao Carmela noi ci diamo del tuo e continuiamo a farlo, senti ti piace sto titolo sono Rozza e me ne vanto? Devo dirti la verità sì, penso che anche il mio papà se fosse in vita sostenerebbe la stessa fase. Beh è un modo per dire anche che le persone non cambiano insomma perché non cambiano nel senso buono, che consumano le scarpe nei quartieri popolari anche quando entrano nei palazzi. Tu sei assessore di Pisapia da qualche tempo, assessore dei lavori pubblici. Da marzo 2013. Da marzo 2013, mi fai un bilancio e mi dici cosa volete fare? Quando? Nei prossimi mesi? Eh certo. Ma guarda, i lavori pubblici non è che riescono a… mettiamo in campo l'appalto per l'abbattimento alla ricostruzione di sei nuove scuole. Milano ha 27 scuole in prefabbricato leggero che andavano abbattute nel 2000 perché erano a tempo e invece ne ho trovate 27 in vita e adesso una è già la gara in corso e le altre sei stanno per partire e quindi avvieremo e poi la prossima è giunta concluderà. Però è il più… Mi dici tre cose buone che ha fatto Pisapia? Beh sicuramente… Ci devi pensare. No, 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 sicuramente c'è… Siamo tutti nella stessa barca, anch'io ci devo pensare. Sicuramente c'è una cosa che devo dire, non la davo per scontata all'inizio e cioè che c'è una città che vive all'aperto molto più di prima. Questo è vero. Certo, abbiamo perso tutti la casa, siamo in mutande e la gente vive all'aperto. La gente vive, come dire, ci sono parecchie iniziative, anche molte gratuite a cui tanti cittadini partecipano e tra l'altro questo permette a tanti. La seconda cosa secondo me è importante è quella di aver governato con equilibrio, insomma magari a certe volte io avrei preferito che avesse degli atteggiamenti più duri e anche più rozza. Venga sì, vorreste un sindaco con le palle? No, vorrei. Ogni certi momenti secondo me ci bisogna… E in questo, però forse io esagero troppo ed è magari sbagliato. E l'altra terza cosa che secondo me Pisapia ci ha spinto è che ha lavorato senza mettere bastoni fra le ruote su Expo perché poteva, quando si è insediato, mettere in discussione il progetto, poteva mettere in discussione tutto. Invece ha scelto, senza aprire discussione, di portare avanti anche ciò che lui non condivideva ma perché Expo si facesse. Sì, però toglietemi Pisapia e lasciatemi la rozza che preferisco. Ma perché insisti tanto sulla ricandidatura di Pisapia? Perché gli altri che ci sono in ballo sono dei mezzi… Io è noto a tutti che… O perché questo è il meno peggio? Allora è noto a tutti. No, spiegami. Sono due motivi banali. Non due motivi banali. Perché per esempio non lo fai te il sindaco? Allora, andiamo per oggi. Perché stai sui coglioni a quelli del PD. Andiamo per oggi. No, io voglio sapere. E certo, ma io rispondo con puntualità. Allora, io ritengo che un mandato per un sindaco, se vuole rimanere nella storia della città, non è sufficiente. Per questo ritengo che è un errore che non si ricambi. Ma basta anche mezzo mandato. È un errore che non si ricambi. Come Marino, basta anche mezzo mandato. Mandato passi lo stesso alla storia. Marino, secondo me, vive in un mondo a parte totalmente. Non sa dove abita. L'ho detto a te in tempi, non sospetti che secondo me era meglio che lasciasse la città di Roma ma a un altro sindaco. Quindi io ritengo che è sbagliato, che se hai finito un mandato e ritieni che è stato fatto un buon lavoro, ti devi ricandidare. Quindi io l'ho detto anche personalmente a Pisapia. Poi invece, perché non mi candido io? Io ritengo che la città di Milano deve avere un sindaco che abbia, che non deve piacere a Carmela Rozza, ma che abbia la capacità e anche le relazioni per poter affrontare la sfida successiva che ci siamo dati, che è quella di competere con tutte le capitali del mondo. Senza toccare, ecco. Con tutte le capitali del mondo. C'era il microfono un po'. Ho capito. Dicevo, quindi io... Ma tanto parlavi bene di Pisapia, quindi anche se non si è sentito un pezzettino. No, no, stavo dicendo che tipo di sindaco voglio. Quindi voglio un sindaco di alto livello che abbia quella capacità di far competere Milano Ma questi di alto livello hanno rotto le balle, perché poi non vanno in periferia, non conoscono i problemi della gente. Ma che discorsi fai? No, io non faccio nessun discorso. Ritengo che la città deve competere. Perché oggi io ritengo che ci deve essere una figura di più alto livello anche del mio. Ma scusami, io ho visto le alternative, no? No, le alternative le ritengo... No, io non ritengo che siano le figure adeguate per fare il sindaco di Milano, quelli che oggi si stanno proponendo. Così una frase in italiano precisa alla rozza. Non ritengo o ritengo? Io ritengo che le persone che si stanno proponendo non hanno la struttura adeguata perché... Non hanno? Non hanno la struttura adeguata perché Milano deve avere una figura e un sindaco che abbia quella capacità di lanciare la città del mondo. Poi deve avere una buona squadra e una buona squadra fatta principalmente mirata non sulle periferie, punto, perché spesso di periferie si parla. Io vedo pontificare tante, però non è che queste periferie negli ultimi 22 anni hanno cambiato faccia. Nelle periferie si fanno le cose. Io alla fine, visto che non sono l'assessore alla casa e neanche alle periferie, ho deciso di rappresentare un modello che sto perseguendo quotidianamente a Quartogiaro. Oggi a Quartogiaro io sono la prima, e penso ai cittadini più di me, a dire non è più la periferia di una volta. Quindi migliorata, ne restano un sacco di altri. Ce ne sono molte. Però c'è quel modello che si può… Esatto, perché in una legislatura… Ma chi sarebbe il tuo sindaco ideale? Ma non per capire… No, ma ripeto, il mio sindaco è banale, il mio sindaco ideale è una persona che abbia una capacità di dialogo e non sia di estrema sinistra, prima di tutto. Perfetto, non un comunistone di quelli… All'estrema sinistra oggi a Milano, in Italia mi pare che ha, come dire, per carità, il diritto di testimonianza a tutti, ma non credo che ci siano le condizioni per governare Milano. Perché divide sia… Ma non solo, perché ha una visione parziale della realtà. Va bene. Secondo, deve avere una capacità di comunicare ai cittadini, a prescindere dall'appartenenza di partito, perché Milano se ha una caratteristica milanesi, che io stimo molto, e che sono moderati, non sono degli estremisti, e guardano concretamente a dove tu stai portando la città, quello che fai per la città, non ai proclami ideologici. Quindi senza proclami ideologici. Terzo, io credo che ci deve essere un sindaco che è capace di coinvolgere anche le figure moderate della città. Vabbè, però io volevo un nome. No, i nomi non si faranno, perché se faccio un nome perché gli voglio male, le primarie si faranno forse il 7 febbraio. Tutti quelli che chiunque fa un nome oggi lo brucia, quindi sarebbe sbagliato. Ma ci sono in giro delle persone in grado, hai dei nomi in testa che non dici? Assolutamente, sì. Ma è questi che sono usciti perché? Vabbè, competizione. Competizione, poi per carità, ognuno pensa che vuole farsi questa sfida, per carità. Io ritengo che però ancora non abbiamo definizione, ancora non ci sono le regole delle primarie, non sappiamo ancora se si fanno le primarie e poi se si fanno il 7 febbraio, credo che qualcuno sta mettendo le bandierine e poi magari domani tratterà quando arriva il nome vero. Ma com'è sto fatto che mi sembra di aver capito, stai sulle balle a quelli del tuo partito, non i militanti che ti vogliono bene, ma i colonnelli e stai invece simpaticissima a quelli di destra, centrodestra, come mai? Ma io credo per una banalità, io non mi sono mai schierata su certe posizioni per motivi ideologici o peggio ancora strumentali, io cerco nel bene e nel male di dire esattamente quello che penso, di fare di conseguenza e cerco una coerenza, naturalmente in questo che significa? Significa che se Renzi fa il provvedimento che spero non faccia sulla sanità, sugli esami clinici, io dico che è sbagliato che no, il mio parere, significa che se il mio partito a Milano non sta dicendo, non sta mostrando una prospettiva, io glielo dico, significa anche però che se c'è una cosa giusta si deve fare e si porta avanti, se al mio partito non piace, se io la ritengo giusta la porto avanti. Quindi sostanzialmente dici quello che pensi fuori dai degni. Assolutamente, faccio quello che io ritengo giusto. Senti, ma Expo, adesso vediamo queste file, a parte che regalano i biglietti in Antropoli, li vendono, vediamo queste enormi file, è un successo, doveva essere diverso, ha portato giovamento. Allora, io dico che non mi aspettavo, io ho fatto un sopralluogo al cantiere di Expo nel marzo 2015, vi assicuro che sono uscita da lì, ho detto non ce la faremo mai, non mi aspettavo che riuscivamo a farla, a farla completa e sul piano dell'immagine della città e dell'Italia a livello nazionale e internazionale Expo ha rappresentato un successo. Poi quando tireranno i conti la società di Expo su quanto è costato e quanto è stato recuperato, valuteremo gli aspetti economici, ma sul piano della promozione della città è stato un grande successo, lo vediamo perché io adesso frequentando i quartieri e molte famiglie hanno affittato le stanze a tanti turisti che arrivano per Expo e quindi molte famiglie hanno fatto, sono riusciti ad avere un reddito e questo è un dato positivo nella città, come gli albergatori, io lo dico perché gliel'ho anche detto, i milanesi invece hanno fatto l'errore di triplicare i valori delle stanze e questo è un errore perché noi non dobbiamo pensare che Expo è un successo e si finisce il 31 ottobre 2015, noi dobbiamo godere della pubblicità di Expo per fare in modo che i turisti arrivino a Milano e se passa l'idea che dormire a Milano è troppo caro, non hai fatto un bel servizio alla città. Senti ma questi Lazzaroni che ho letto in questi giorni, presunti tali, però insomma ci sono intercettazioni, evidenze anche di un certo livello, questi Lazzaroni dipendenti comunali, funzionari che rubavano, com'è sta storia qui? Allora purtroppo i due arrestati secondo me le accuse sono molto pesanti nonostante io non ho messo mai la croce addosso neanche a Berlusconi e a Formigoni, però in questo caso mi sembra che la questione c'è ed è grossa e pesante, da quando io sono in assessorato loro non avevano ruoli rilevanti, quindi però probabilmente… Però c'erano da Albertini, Moratti… Allora il dirigente che hanno arrestato è stato assunto nel 2004 dalla giunta Albertini, è stato riconfermato dalla giunta Moratti, prima si occupava dell'edilizia residenziale pubblica con Albertini, con la Moratti è andato a occuparsi dell'edilizia scolastica e da lì che stanno nascendo le indagini, stanno nascendo su degli appalti, uno fatto nel 2010 e gli altri quattro sono del 2011 quando lui fino a giugno era dirigente dell'edilizia scolastica e su questo l'indagine della magistratura. Io credo che, non sempre, quindi non voglio dare la colpa ai miei colleghi che mi hanno preceduta, se c'hai delle mele marce, io li chiamo dipendenti infedeli perché il dipendente pubblico non deve essere leale al politico di turno, ma il dipendente pubblico deve essere fedele all'amministrazione e quindi alla città e quindi sono dipendenti infedeli, ma non nei confronti di questa giunta, nei confronti della città e questi ci sono, ci sono e sono questi due che hanno arrestato. Sulle altre indagini invece che ci sono delle altre quattro persone che sono avvisate, su cui si sta indagando, io personalmente gente con cui ho lavorato, lavoro tutti i giorni, ritengo che forse sono stati un po' troppo superficiali, ma non penso, la magistratura poi lo dirà, ma non penso che ci siano comportamenti grossi. Ma questa città ha gli anticorpi per liberarsi dei lazzaroni? Beh io credo di sì, che la città ce l'abbia, anche perché… Che non hanno colore politico, che vediamo che stanno con le giunte di destra che di sinistra, non cambiano loro agire. Il presidente infedele, se ha trovato la strada per lucrare e trovare la soluzione, adesso se un signore che partecipa a una gara, che è un impiegato infedele, che sta in una gara d'appalto, si mette d'accordo a casa sua con quello a cui ha deciso di fargli vincere la gara, non se ne accorge neanche la commissione, perché queste sono cose… Il punto vero qual è? che gli anticorpi ci sono e tant'è vero che sia dalla magistratura come noi, noi abbiamo denunciato in questi anni almeno una decina di aziende, perché per esempio su appalti dove ci facevano ribassi stratosferici, addirittura la centrale unica appalti del Comune di Milano chiedeva spiegazioni perché quel bidone me lo offre con lo sconto del 64%, tu mi dici che hai il fornitore che ti fa lo sconto ancora più alto e io ti chiedo mandami il preventivo, dopodiché abbiamo mandato quel preventivo al fornitore dicendogli certifichi che tu gli vendi il bidone col 64%, quello disconosce il preventivo, l'azienda viene denunciata per… Quindi avete i sistemi insomma? I sistemi ci sono ma non per tutto, perché come dire, se io voglio decidere, io uso dire che non sai mai fino in fondo neanche chi è la persona che ti sta accanto, cioè tuo marito o tua moglie, ed è vero, e quindi non puoi sapere fino in fondo neanche nell'impiegato o nel politico che ti sta accanto. Tante volte dici, ah mi sembrava una brava persona. Eh, quante volte. Tante volte. Ascolta, io voglio parlare di queste buche di merda, perché Milano è disseminata di queste… Non è vero, questa è una falsità. Buche di merda, sì o no, buche di merda. Io vi dico che le buche sono accanto ai binari di non ottenere determinate spalle. La mia falsità sulle buche, perché insomma ti hanno eletta e fai l'assessore anche per questo… Alla buca, ti mancherà. Ecco, meno male che una riparte dalle buche, dopo la pubblicità però. Vedi la scenografia che ho fatto qua, cara assessore Rozza? Aspetta che scendo. Vieni, è una tipica strada di Milano, spazzatura da tutte le parti, le buche no, perché lo studio… Non ha buche, non volevi bucare lo studio. Però hai capito? Cioè c'hai buche e spazzatura ovunque. Come la risolviamo? Io estremizzo però lo sai benissimo, io vorrei una città bella linda e pulita. Anch'io, anch'io. Allora, in alcuni casi per esempio… Cosa pensi di quell'uomo là che ha alle tue spalle? Io credo che il collega Salvini è un uomo intelligente, dotato per i miei gusti di eccessivo cinismo e che spesso preferisce non possi domande e per la comunicazione e per il voto, certe volte fa straccio sia di qualsiasi sentimento umano. Io ho espresso il mio pensiero mettendoci un bel bidone, non vi preoccupate… Allora… Fa un errore grave, pensa che annunciando le riforme dà l'impressione che le fa, facendo l'errore che ha fatto tante riforme che non si sono fatti per vent'anni, ma tutti pensano che non le ha fatte. E questo è l'errore. Vabbè, torniamo alle nostre buche. Prego. Tanto mi sono ferito col bidone. Visto, parli di buche, ti ferisci col bidone. Esatto, ma quanta gente cade dentro le buche? Quanta gente ti manda le madonne? Guarda, io devo dirvi, poi sicuramente vi posso dire anche le strade dove ci sono le buche perché, io devo dirvi che da quando mi sono insediata oggi, lo vedete anche dalle lettere dei giornali, ormai le lettere dei giornali sulle buche sono quasi scomparse. Perché le diamo, cioè, fanno parte della nebbia, la madolina, le buche. No, no, io lo capisco che vengo a meno, vado a togliere un luogo comune, però io ho una pagina Facebook e mi arrivavano i mail e mi arrivano segnalazioni di buche, adesso ne arrivano, ma in misura bassissima. Ho una mail a cui rispondiamo entro tre giorni e anche adesso c'è stato il crollo. Anche dal controllo che ho fatto. Hanno perso la fiducia, dai. No, non è vero, abbiamo cambiato i materiali, oltre che abbiamo asfaltato un sacco di strade, abbiamo cambiato i materiali e col cambio di materiali, infatti il crollo è avvenuto col cambio dei materiali. Col cambio dei materiali la buca che viene chiusa non si riapre più perché il materiale tiene, addirittura si plasma perché è fatto, è materiale bituminoso misto a riciclo di gomma. Di copertona, di copertona e quando ci passi sopra invece di portartelo via lo schiacci meglio, tanto è vero che adesso abbiamo il problema opposto, che se la buca non è riempita di altro materiale, ci metti solo questo catrame, ti si riforma una buca asfaltata. Quindi stiamo risolvendo quello. Le buche ci sono, perché è inutile negare l'evidenza, in parecchie strade che hanno anche coi binari e lì stiamo cercando le soluzioni. In via degli imbriani abbiamo fatto almeno che era una roba da paura, non so se se la ricorderà, ci passava spesso. Io ci passo sempre, via degli imbriani. E l'abbiamo riasfaltata già tre volte con tre materiali diversi perché abbiamo 81 strade con le travestine del tram che sono antiche, che andrebbero cambiate, che si muovono col passaggio del tram e fanno saltare gli asfalti. E stiamo cercando soluzioni perché 81 strade così non le risolvo in un attimo. Hai chiuso sulle buche? Mi dici che non ci sono, allora io vivo un attimo. Io vi ho detto dove sono, vedi che ti ho detto anche dove sono, te li ho motivati, quindi significa che la città la giro, se so dove la città ha problemi. Tu governi, ma se fossi all'opposizione, tre robe che ti farebbero girare le balle di come è governata Milano. Subito, il rapporto con Aler e con la regione sulle casse popolari. Io sono fuori dalla grazia di Dio perché ritengo che non stiamo dicendo cosa bisogna fare per migliorare anche a livello di legge regionale. Milano non sta dettando la linea su quale legge regionale bisogna fare per avere una buona gestione delle casse popolari. La seconda è che ritengo che noi nei confronti dell'Aler siamo troppo accomodanti, ci sono delle responsabilità. Ed è giusto che chi governa Milano dica quali sono, di chi sono e cosa bisogna fare. In questo io ho qualche preoccupazione. Terza? Terza, credo che io incalzerei la mia giunta nell'aspetto che riguarda invece la capacità di trovare le soluzioni sull'assegnazione alloggi per gli sfrattati. Che colpa della regione Lombardia, ma lo diciamo quasi come uno scaricabarile perché non diciamo cosa bisogna fare. Questo io, se ero all'opposizione, mi sarei presentata tutti i giorni, come ho sempre fatto. Beh, ma l'opposizione qui è frantumata. Vi fanno governare tranquilli. No, ma come ho sempre fatto io da sola, e lei lo sa, e tu lo sai, che se serviva portavo le persone in televisione e dicevo questi non gli si danno la casa e per questo motivo si deve fare così per darglielo. Perché dire alla signora sfrattata che ha ragione e poi i miei colleghi che sono attualmente all'opposizione, poi non vanno in regione a dirgli, cara regione, tu mi stai lasciando i cittadini per strada. E siccome la giunta Pisapia non te lo dice con forza, te lo dico io con forza, invece non lo fanno. Perché speculano sulla vita della gente e dicono, ah, la signora è sfrattata, ah, il piagnisteo, la giunta comunale non gli dà la casa e poi non danno la soluzione. Quando si affronta un problema per le persone vere, non si fanno chiacchiere, le persone vere si fa la battaglia e si dice anche qual è la soluzione. Senti, io te lo chiedo sempre, continui ad andare nei quartieri popolari, poi me lo dicono che ti vedono e tutto, ma da quando governi un bel vaffanculo, te l'hanno mai tirato alcuni dei tuoi quartieri popolari? Ieri un signore, non un vaffanculo, quando mi ha posto, era sulla risposta che gli ho dato. Proprio ieri ero alla Barona, che tra l'altro abbiamo, perché una delle cose quando dico le preferite si fa il lavoro, non si parla. Abbiamo riqualificato due monumenti in Barona, una piazza proprio, perché come l'ho fatto al centro di Milano, l'ho fatto in Barona, l'ho fatto a Quartogiaro, l'ho fatto a Baggio. E quindi era l'inaugurazione, all'evento di questo restauro e questo signore mi poneva il problema delle sue case che cadono a pezzi. E io gli ho dovuto dire che però il problema è che io non potevo intervenire come assessore ai lavori pubblici, che il problema è che quelle case erano di proprietà dell'Aler e io non avevo nessuno strumento. E lui si è arrabbiato dicendomi che, come sempre, i politici fate lo scaricabarile. Dal suo punto di vista ha ragione il signore. Perché per lui siete tutti uguali, un politico vale l'altro. Per lui non capisce la differenza. Per questo dico che un errore che facciamo è di non alzare la voce né con l'Aler né con la regione sulle case che cadono a pezzi. Perché se quell'azienda ha tanti debiti e adesso che non è più in grado di fare niente è fallita, non tirino fuori che la colpa è solo dei morossi. Perché qualcuno ancora non mi ha spiegato gli affari della società Asset, che ha messo nei guai l'Aler sui conti, perché adesso l'Aler ha liquidato Asset, ma si è presa tutti i debiti di Asset che deve pagare, e qui il responsabile di quelle scelte non è apparso. Non è apparso né per i grillini, non è apparso per nessuno in Consiglio regionale. E poi qualcuno quelle scelte le ha fatte. È possibile che non c'è un responsabile che ha fatto investimenti di quel tipo comprando cadaveri a un valore che non era corrispondente al cadavere che stava comprando e indebitandosi al punto da far fallire un'azienda pubblica che ha un interesse a fare sociale, non a fare affari. Allora ci raccontavano che facevano affari. Lì si sono stati fatti delle scelte nella migliore delle ipotesi di investimento sbagliati e non è apparso, non c'è un responsabile. Anzi ci sono i cittadini che abitano nel caso del popolare che non pagano. Va bene, una sera di queste ti manderò in onda da qualche quartiere popolare e poi vedremo anche l'accoglienza della gente. Che vuoi fare da grande? Ma io vorrei continuare almeno per un altro giro di occuparmi di Milano, una cosa che è un onore che trovo enorme. Qualcuno ti toglierebbe dalle balle volentieri mandandoti a Roma. Sì, qualcuno mi ha già riproposto di andare a Roma. Perché non vai a Roma? Che fai l'onorevole Carmela Rozza, poi torni giù in Sicilia, l'onorevole che passeggia per Augusta, dov'è? Ragusa. Ragusa, scusami, quita offesa. Ecco, l'onorevole che passeggia per Ragusa, tutta bella trova. Quando mi hanno chiesto di andare a Roma alla precedente giro, per toglierti dai coglioni, io ho risposto perché mi volevano mandare in pensione. Perché lì prenderai un grande stipendio, sicuramente puoi passeggiare quanto vuoi, tanto se hai le spalle coperte, ma non conti niente, perché lì sei uno dei mille. Io preferisco anche stare all'opposizione e contare. Ecco, alzati in piedi, che è una roba che mi diverte sempre, ogni volta che ti incontro, è sapere, perché adesso abbiamo finito le parti, siamo in disaccordo su Pisapia, che lei dice che è bravo, io no, sulle strade che lei dice che sono asfaltate, io no, ma l'immondizia l'abbiamo lasciata stare, ma parliamo di una cosa che mi chiedo sempre, ogni volta che ti vedo, cioè facciamo il conto di quanto è speso per vestirti, che è una cosa bellissima, perché tu vai ancora ai mercatini a comprare la roba. Anche ai mercatini d'Italia, ai mercatini d'Italia, le scarpe le ho comprate in provincia di Lecce, al mercato di copertino l'anno scorso 10 euro. Queste, perfetto. I pantaloni invece li ho comprati con gli sconti a Milano, in negozio, e li ho pagati 45, adesso siamo in quella regione perché due anni fa, e questa l'ho presa al mercato, devo dire la verità, 10 anni fa, questa l'ho pagata a 5 euro. Quindi abbiamo addosso quanto? 45, 55, questo perché? 60, ma intanto io sono cresciuto al mercato perché la mia mamma avevamo 4 figlie, lavorava solo papà, e quindi la mia mamma andava al mercato o non ci poteva vestire. Mi ha mandato dalla Salta, e ho imparato a conoscere i tessuti e i vestiti, io so cucire, e ho imparato a conoscere i tessuti e i vestiti, e quindi quando sono venuto a Milano, abitavo in Sicilia, guadagnavo, facendo il corso di infermiere, mi davano 200 mila lire, abitavo da sole, ne pagavo i 50 di casa, o andavi al mercato, o non si arrivava a fine mese. A Milano, peggio ancora, quando sono venuta a fare l'infermiere, e poi vi assicuro, io so comprare al mercato, mi diverto un mondo, conosco, parlo con la gente, sai che bello al mercato? Tante volte sono lì a cercare quelle mie cose, parlo magari con, io sono cliente, ho delle bancarelle da cui sono cliente da anni, e senti le persone che dicono, ah ma è veramente lei, ma è veramente lei, allora è vero che va al mercato. ho due o tre mercati ormai, ci vado un altro ogni tanto, purtroppo perché ho poco tempo. Va bene, io ringrazio Carmela Rozza, ve la rimando in onda dai quartieri popolari, però adesso lei sta qua con me, perché subito dopo la pubblicità, andiamo ad arrabbiarci con le porcherie della settimana, cosa saranno mai queste porcherie, c'è l'imbarazzo della scelta, a tra poco. Non mancherà.